Ciao! Siamo al supermercato d'Aspare e stiamo guardando altri uovi di Pasqua. Siamo andate anche ai loro spin e abbiamo comprato anche un altro uovo. Questo uovo di Pasqua lo abbiamo acquistato dall'Eurospin. Siamo andate anche ai loro spin e a spazio. Wow! Un pop-it! Ti piace? Sì! Piccolino! È bello! Sì! Scriveteci nei commenti quale uovo di Pasqua acquistate. Ciao! Ciao!